La testa non è assolutamente alla partita di mercoledì, perché da venerdì a mercoledì c'è una settimana, o quasi una settimana, sono cinque giorni. Domani abbiamo una partita importante per noi, soprattutto perché bisogna vincere contro una squadra che sta giocando molto bene, è a ridosso dell'Europa League, della zona d'Europa, una squadra che finora ha battuto tutte le grandi, quindi sarà una partita difficile. Il Bayern per noi non deve essere un'ossessione, l'ho già detto e lo ripeto. Per noi la Champions deve essere un sogno realizzabile, quindi ci penseremo da sabato mattina. Noi ora questi dieci giorni sono fondamentali, tra Sassuolo e Torino ci giochiamo una fetta importante di Scudetto. Sturaro ha fatto a lei a mento e sta bene, a parte Chiellini e purtroppo Caceres, tutti gli altri sono a disposizione per la partita di domani. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a vincere il quinto Scudetto, che sarebbe una cosa straordinaria e che solo la Juventus del 30-35 l'ha fatto. Quindi in un calcio ormai lontano, quasi 100 anni, questi ragazzi raggiungerebbero un traguardo straordinario. Questo per noi deve essere l'obiettivo principale e bisogna essere focalizzati su questo obiettivo. Per arrivarci bisogna arrivarci con un passettino alla volta, senza farsi distrarre da quelle che possono essere esternazioni di tutto e di tutti. Noi bisogna avere la forza di non essere scalfiti da niente e da nessuno, dentro il campo e fuori dal campo, che dopo alla fine è quello che conta, è quello che fai, non quello che dici. È ancora una corsa a cronometro e tra l'altro visto che domani, dopo domani mancano 9 partite, quindi siamo in discesa, la discesa è più pericolosa della salita. E quindi bisogna stare molto più attenti, perché in discesa si può scivolare.